Buonasera a tutti, siamo uniti qua per la pace, siamo uniti qua che per essere insieme. Non è sufficiente condannare il terrorismo di qualsiasi forma, sia statale che sia anche individuale. L'importante è proprio andare al fondo a risolvere tutti i problemi che sono sospesi dalla prima guerra mondiale in poi, a partire dalla causa palestinese, di guerra in Afghanistan, in Iraq, le questioni in Siria. Tutti questi sono guerre che alimentano il terrorismo che è iniziato da questi stati, che hanno iniziato dall'Iraq. Quando siamo usciti contro la guerra, nell'Iraq eravamo 120 milioni in un giorno unico, che non hanno ascoltato. E questi sono i risultati. Però speriamo che nessuno che di noi ha paura di la pace, perché noi siamo uniti qua, in piazza Duomo, per essere tutti quanti a dire basta con le guerre, che vogliamo vivere tutti in pace e insieme agli altri. Non esistono guerre che qualcuno che sta strumentando l'Islam o sta strumentando proprio le religioni. noi rifiutiamo tutti quanti, quelle etnici, quelle religioni. Con noi vogliamo vivere tutti quanti insieme, con i nostri figli che andranno a avere un futuro in qualsiasi parte nel mondo per poter vivere in pace. Dobbiamo fare, avere una riflessione. Dobbiamo avere una riflessione dall'alto in basso, dal basso in alto, per dire basta, basta queste guerre che alimentano il terrorismo. Grazie e speriamo chi va perché è tutto bene.